Manca pochissimo al 24 aprile e il Phonic, una famosa compagnia di videogiochi, darà vita ad un nuovo incredibile titolo. Per dirla brevemente, questi sono gli sviluppatori che hanno dato vita a giochi come Dead Alliance oppure Friday the 13th Game. E dobbiamo dircelo, dal punto di vista tecnico e del gameplay, beh, i titoli non erano esattamente perfetti o privi di errore, ma bisogna dirlo, avevano delle potenzialità, certo, mal gestite, ma sicuramente questa software house è in grado di regalare buoni videogiochi con nuove meccaniche, insomma, produrre qualcosa di nuovo e secondo me il titolo che andiamo a scoprire oggi, e cioè Predator Hunting Grounds, è sicuramente un titolo particolare, diverso, asimmetrico, che porterà sicuramente un'aria di freschezza a quei titoli FPS che non riescono più ad innovare. Noi speriamo che la software house abbia imparato dagli errori del passato e che in questo titolo ci proponga qualcosa di nuovo, migliorato, insomma, un gioco bello, fresco, innovativo, insomma, un gioco da possedere. E per scoprire se questo titolo merita o no, beh, gustatevi, prima di comprare, ma soprattutto se il video vi è piaciuto, lasciate un piccolo like. Grazie mille a tutti. E iniziamo subito dicendo le cose come stanno noi ragazzi, Predator Hunting Grounds non è esattamente un titolo che segue i filoni dei famosi film Predator, semplicemente questa casa di sviluppo ha preso questo famoso brand e ha creato un bellissimo FPS asimmetrico. E questo cosa vuol dire? Beh, che quattro giocatori umani dovranno affrontare un altro giocatore molto più potente, appunto, il Predator, che noi sappiamo essere una macchina perfetta per uccidere, esattamente come abbiamo visto nei film. Il titolo a scanso di equivoci è only online e lo potrete trovare sia su PlayStation 4 sia su PC, ma attenzione, non su Steam ma solo su Epic Game Store e il prezzo di lancio del titolo è anche abbastanza interessante, e cioè 40€ per entrambe le versioni. Ed ora parliamo un attimino del gameplay, perché sì, come vi ho già spiegato, questo è un FPS asimmetrico, quindi voi insieme ai vostri amici composti da un gruppo di quattro persone, ognuno con la sua crasse, dovrete cercare di collaborare e sopravvivere, ma soprattutto dovrete cercare di collaborare al meglio e poi stanare un pericoloso nemico, come ad esempio il Predator. Le classi che potete scegliere per i vostri quattro personaggi sono essenzialmente quattro, abbiamo l'assalto, abbiamo il cecchino, abbiamo il medico, abbiamo il supporto, e ognuno ovviamente ha la sua arma, ha le sue funzionalità, ha le sue abilità, ha i suoi pro e i suoi contro. Del punto di vista invece del cacciatore, e cioè del Predator, anche qui amici possiamo scegliere. Abbiamo tre tipi di Predator ben differenti, anche qui con pro e contro. Abbiamo il Predator Berserk, adatto ad uno scontro corpo a corpo, oppure abbiamo un Predator adatto agli scontri molto lontani, oppure abbiamo il Predator Scout, capace di individuare le posizioni dei nemici, e poi attraverso una bellissima pletora di armi che fra poco andremo a conoscere, beh, potete sbudellare tutto quello che vi si para davanti. Abbiamo parlato di armi? Beh, allora iniziamo subito con le cose cicciose, perché quando parliamo di Predator esattamente come è film, abbiamo davanti a noi davvero tantissime possibilità. Certo, il Predator non è esattamente una bestia stupida che si butta a capofitto nella battaglia, ma bensì studia, valuta e attacca in stealth. E proprio muoversi in stealth è forse il punto cardine di come utilizzare appunto il Predator, che prima dovrà analizzare la situazione e poi dovrà cercare ovviamente di non farsi stanare dai quattro giocatori. L'arsenale a sua disposizione, ragazzi, è praticamente enorme, infinito, dotato di armi potentissime, come ad esempio gli infrarossi, oppure gli attacchi in corpo a corpo, oppure gli attacchi a lunga distanza. E allo stesso tempo, amici, anche le quattro persone, il team che deve cacciare il Predator, avrà a disposizione davvero tantissime armi, come ad esempio dei bellissimi fucili da cecchino, come ad esempio la Gatling. E le possibilità, la personalizzazione e il quantitativo di armi che avrete man mano che avanzate con il vostro livello, beh, si farà sempre più importante. E pian piano scoprirete le armi che funzionano meglio nella media, lunga oppure cortegittata. Ma le cose da scoprire su questo videogioco non sono ancora finite, perché adesso parliamo di P vs E e soprattutto mappe e environment. Perché, sì amici, non c'è solamente il Predator che vi darà la caccia, ma ci saranno anche delle basi controllate dall'intelligenza artificiale. Queste basi saranno davvero molto importanti, perché all'interno di esse ci sono barigli esplosivi, ci sono sistemi di hacking, insomma ci sono sistemi che vi aiuteranno a trovare un Predator estremamente efficiente, come ad esempio il Predator, vi permetteranno di individuarlo, vi permetteranno di localizzarlo e poi poterlo colpire con maggiore efficacia. Nulla da dire, anche su questo punto lo team di sviluppo ha ragionato davvero molto bene, ma c'è un'ulteriore chicca, e cioè le mappe di gioco che vengono create in maniera completamente randomica. Ebbene sì ragazzi, le mappe non sono uniche, la mappa a disposizione non è unica, le posizioni degli oggetti, le posizioni vantaggiose non sono esattamente pre-renderizzate, ma verranno generalizzate solo quando entrerete in partita. E questo anche voi capirete benissimo che cosa significa, e cioè che le mappe che andrete a giocare, sebbene siano in una bellissima vegetazione pluviale estremamente rigogliosa, sono tutte strettamente diverse. Certo, dal punto di vista dei gameplay sono tutte uguali, ma la posizione in cui troverete gli avamposti, le posizioni da cui il Predator vi attaccherà, sono sempre, costantemente diverse. E questo ovviamente in un titolo del genere, dove la ripetitività potrebbe essere un problema molto importante, beh, viene completamente azzerata da questo fattore. E per ultimo, ma non per importanza, parliamo di aggiornamenti futuri. Beh, qui la casa di sviluppo non è stata molto chiara, ma ve lo posso dire tranquillamente, non esiste Season Pass, ed è molto probabile che se un titolo del genere debba venire supportato per i mesi successivi al suo lancio, beh, qualche contenuto, qualche nuovo personaggio, qualche nuova mappa dalle ambientazioni diverse, deve essere rilasciato. Beh, è molto probabile che tutti questi contenuti, che come vi ho detto saranno lanciati solamente su PlayStation 4 e su Epic Game Store, saranno rilasciati completamente e totalmente gratuitamente. Considerando, amici, i precedenti titoli di questa software house, beh, io spero vivamente che abbiano imparato dagli errori del passato, che non si può lasciare un videogioco online, multiplayer come ad esempio Friday the 13, senza contenuti aggiuntivi, senza mappe aggiuntive, senza metterci aggiornamenti costanti, perché sennò il titolo è destinato a morire. Certo, come abbiamo visto, ci sono delle buone meccaniche, come abbiamo visto anche le mappe che vengono generate, e che ognuna è diversa dall'altra, beh, questo aiuterà a non stancarci tanto di questo videogioco, e anche il fatto che il titolo sia disponibile a meno di 60€, beh, questo aiuterà sicuramente le vendite. Ma, amici di Idolfonic, mi raccomando, non dimenticatevi di questo videogioco, e soprattutto non dimenticatevi degli aggiornamenti gratuiti. Ide così, amici, che anche quest'oggi abbiamo scoperto un nuovo magnifico videogioco. Voi fatemi sapere cosa ne pensate, lo comprerete oppure no? Beh, potete sbizzarrirvi nei commenti subito qua sotto, e noi ci vediamo in un prossimo megavideo. Ciao! Ciao! Ciao!